L'anno scorso ho fatto tutta la seconda parte di stagione, qualche partita nella prima, con questo modulo ero abituato a movimenti diversi, sia da mezzala che da quinto, e quindi mi venivano automatici a fare determinate cose e il mister mi spiegava cosa voleva lui in quel determinato ruolo lì, tutto lì, dava una mano in quello. Va bene, bene, sono contento, fa caldo, faceva caldo, meno male che siamo venuti qua. Ho giocato nel 3-5-2 mezzale, nel 4-3 esterno alto, sì, con Grassadoni, invece poi a Venezia era sempre un 3-5-2, ho sempre fatto la mezzale alle parti che ho giocato. Adesso vedremo, il mister comunque, anche lui lavora su questi due moduli, ora stiamo usando il 3-5-2 che conosco abbastanza bene, quindi per me mezzale in questo ruolo qua o comunque quinto è una buona opportunità. No, 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 secondo me è sbagliato anche dire quello, bisogna sempre avere il giusto equilibrio in qualsiasi cosa che si fa, nella vita in generale, credo io, nel calcio ancora di più. È normale che ora noi dobbiamo pensare a prepararci bene, il meglio possibile. È normale che poi, collegandomi a quello che ho detto prima, sarebbe una soddisfazione fare una determinata categoria. Se non fosse così, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di riconquistarla, però sempre con equilibrio, perché altrimenti pensare in Serie B, secondo me, di essere una tra le favorite è la cosa più sbagliata che si può fare, perché perdi con tutte e poi è difficile. Devo dire che mi trovo molto bene, ha una mentalità molto offensiva, mi piace, giochiamo bene e quindi penso che potremmo fare una bella stagione. Il gruppo è più o meno quello dell'anno scorso, ci sono forse due o tre ragazzi nuovi e magari arriverà qualcuno nei prossimi giorni, però già ci stiamo allenando bene e continueremo a farlo con o senza nuovi innesti. Io, anche quando giocavo nel Milan, ho sempre giocato così e quindi quello che chiede il mister era un po' quello che chiedevano di là. Sicuramente è diverso rispetto a quello che facevamo con Zenga, però con il lavoro arriveremo a farlo anche bene. Quindi sì, mi trovo bene, mezza alla play, mezza alla sinistra, uguale, non cambia per me, è indifferente. Sì, sì, è molto offensivo, quindi andiamo molto in avanti, più che aspettare. Poi giochiamo la palla, mi piace inserirmi tra le linee, fare assist, così, quindi mi trovo bene, mi trovo bene, sì. Sì, l'ho fatto, a volte il mister mi dice di farlo anche qua, perché comunque, diciamo, mi trovo nel senso, ho già giocato in questo modo, come ho detto prima, però sinceramente mi piace più giocare più avanti per essere un po' più vivo, presente. Sai, davanti alla difesa ci sono tanti giocatori che giocano lì e è un po' lo stesso ritmo, così a me piace più giocare in avanti, però se mi chiede di farlo lo faccio senza problemi. Sì, 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 perché il mister ha parlato chiaro, in faccia a tutti, ha detto quello che vuole, tratta tutti alla stessa maniera e quindi è una cosa positiva, tutti ci troviamo bene, stiamo lavorando tanto, ma bene, quindi capiscono anche quando magari siamo un po' stanchi, ci fermano ogni tanto, quindi è una bella cosa vedere che si lavora, ma allo stesso tempo se ci sono i risultati, diciamo che ci premiano, ci tolgono qualche ripetuta così. Anche giusto, dai.